Abbiamo avuto occasioni per fare gol, non siamo riusciti a finalizzare le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo avuto la partita, l'abbiamo controllata sempre, abbiamo rischiato veramente molto poco contro un'ottima squadra. Dobbiamo essere più determinati, più cinici quando andiamo a concludere, ma anche nell'ultimo passaggio, nella scelta che diventa fondamentale. La scelta fa la differenza in una partita equilibrata come questa, la scelta dell'ultimo passaggio, perché poi la squadra ha creato, viva fino alla fine, peccato per il gol subito, un errore nostro che non dovevamo commettere. Nel momento in cui eravamo andati in vantaggio, abbiamo iniziato molto bene e quindi si poteva... Questa è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, quindi sicuramente. Loro comunque sia sono una squadra aggressiva, però credo che venire a giocare a Foggia non è facile per nessuno. Oggi secondo me meritavamo di più rispetto a loro, abbiamo fatto noi la prestazione.